Il listino usa archivi alla seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,56%, sulla stessa linea, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia 11.977,49 punti Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dall'1,10%, archiviando la giornata a 25.728,1 punti Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dello 0,85% e chiude a 13.732,5 punti Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei Giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,22%, Tentenna Londra, che cede lo 0,45%, piccola perdita per Parigi, che scambia con un meno 0,43% Apprezzabile rialzo, più 1,82%, a Milano per il comparto chimico Ottima performance per Aquafil, che scambia in rialzo del 2,97% Pubblicati i prezzi al consumo del Regno Unito, pari a 0,7% Stamattina, in Unione Europea, saranno pubblicati i prezzi al consumo Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le scorte di petrolio Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul fil di Fed